salve a tutti avete dei libri vecchi nella quale ci crede molto ma purtroppo vi ha fatto questo lavoro qui cioè tutte le pagine pietre e gialle basta prendere un po di carta brasilia la 150 ne fate un pezzettino vedete bene il libro cercare di non toccare almeno i bordi della copertura del libro e cominciando a levigliare poi dopo un po si noterà la differenza mi raccomando vedete bene le pagine in modo che probabilmente si possono carteggiare e ripulire bene insistere un pochino si è importante mettersi della mascherina perché così è la carta e la carta proviene dal legno per cui è come se stiamo carteggiando un pezzo di legno questo è la differenza si non va vabbè ho preso i libri sono rimoni nuovi vedete tutto qua